Carissimi fratelli e sorelle, pace e bene, buongiorno per tutto il giorno. Meditiamo stamattina il Vangelo di Luca, capitolo 17, versetti 7 a 10. In quel tempo Gesù disse che di voi se a un servo ad arare o a pascolare, l'egregge gli dirà quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola? Non gli direi piuttosto, prepara da mangiare, stringiti le versi ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché hai seguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Parola del Signore. Gesù aveva scelto gli apostoli per mandarli dove lui doveva recarsi. Effettivamente gli apostoli sono andati anche a esercitare la missione. E' interessante, per esempio, quando leggiamo il ritorno dei 72 del capitolo 10 di Luca, erano contenti, gioivano perché hanno visto i demoni sottomettersi a loro. La gioia era immensa. E in quell'occasione gli apostoli potrebbero dirci, ecco, merito nostro tutto ciò che abbiamo fatto, perché siamo bravissimi, perché, ecco, così faremo contento al nostro padrone, al nostro Signore. Ma non è stato così. Già Gesù aveva detto, oh, gioite non perché avete visto i miracoli, perché i vostri nomi sono scritti in cielo. Ecco, per dire soltanto che questi gli apostoli hanno agito nel nome di Cristo e dunque tutto è merito del Signore, non merito loro. Loro sono soltanto gli strumenti nelle mani del Signore. E così anche noi, carissimi. E' vero, perché tanti di noi hanno la presunzione, diciamo, di essere bravissimi, che senza di loro non si può fare niente, ecco, si vantano, sì, 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 si vantano, cioè, senza di loro non si può fare niente, solo loro che sono capaci di fare delle cose, gli altri non valgono nulla, e allora tutto deve girare intorno a loro, il punto di partenza è di arriva sempre loro, fare delle belle proposte e poi cominciano a dire, guarda, se io non ci fossi qui, nessuno, cioè, questa presunzione, ma il Vangelo di stamattina ti dice, no, noi siamo i servi inutili. Perché? Perché ciò che abbiamo compiuto, ciò che abbiamo fatto, non è merito nostro e non deve essere il motivo di glorificarci o di gloriarci o di vantarci, perché è merito del Signore. È Lui che ha permesso tutto quanto. Senza di Lui non possiamo fare niente. Allora è inutile dire, ecco, grazie a me abbiamo fatto questo, senza di me non si poteva fare nulla. È vero, si può dire che questo ho fatto io, però al titolo informativo. Questo si può dire normale, che uno sappia che ha fatto qualcosa, ma non nel senso di orgoglio, di vantarsi. No, perché noi non meritiamo nulla. Tutto è merito del Signore. È Lui che ci fa muovere, è Lui che ci guida, è Lui che ci orienta. Senza di Lui che cosa pensiamo fare? Allora, questa inutilità non significa che noi non valiamo nulla agli occhi del Signore. No, assolutamente no, perché Lui ha bisogno di noi per lavorare, per continuare l'opera Sua. Dio non ha mai cessato di creare, continua sempre a creare il mondo tramite noi esseri umani. Ma questa inutilità è proprio come un impedimento di vantarci, di gloriarci o di glorificarci, di non dire, ecco, merito nostro, è così. Non dobbiamo dirlo perché non siamo noi, chi siamo noi davanti al Signore? Noi siamo solo i Suoi strumenti. Ecco, questa inutilità. Noi abbiamo un prezzo davanti al Signore. Cristo è morto per noi, dunque noi valiamo, come lo dice Matteo 6, due passeri, voi valete più dei passeri. Noi valiamo di più dei passeri. Dunque, ecco carissima, allora chiediamo perdono al Signore per tutte le volte veramente che siamo caduti in questo peccato di presunzione, chiediamo perdono al Signore e chiediamo la forza, l'aiuto di Dio per continuare a essere proprio questi servi inutili, perché ogni cosa che facciamo lo facciamo con amore, senza aspettare una ricompensa, senza aspettare qualcosa da contraccambiare. No, lo facciamo con amore, perché pensiamo essere giusto e buono di compiere questa azione, perché aiuterà gli altri, i nostri fratelli, proprio a vivere meglio. E questo è merito del Signore, perché è Lui che ti dà questa intelligenza, questa forza. Allora invochiamo lo Spirito veramente di darci questo senso di inutilità, questo senso di umiltà e questo senso di amore. Vi auguro una buona e santa giornata, che Dio vi benedica sempre. Grazie. Grazie.